sono stata formata dal signor Rosignoli Luca quest'oggi vi porto un drink fresco, perfetto per una tanta attesa un drink abbastanza delicato perchè è un derot con l'acqua che è una vodka, come ho detto, dedicata sia di sapore che di profumo e gli daremo un bel risulto di amice con il ricardo e poi completeremo il tutto per accompagnare un buon ottimo champagne buon cuore di champagne vogliaia ho messo del pompello rosa, del lime ora mi stiamo praticando buon cuore di bacio bravissimo l'ho scettato andiamo a testare allora il pestellone è molto pratico specialmente per fare il layer specialmente per chi lo sa usare per fare il tuo a mio parere e poi comunque perchè si testa meglio con meno fonte andiamo ad aggiungere il chiave il drink che si chiama il drink si chiama il drink si chiama il drink si chiama già te lo dico, un coltino di Dici che ha preparato di tono un attimo dolce a loro. Allora, un po' di esito. Allora, un po' di esito. Siamo qua. Allora, un po' di esito. Un po' di esito.